Hey hey peeps, welcome back per un'altra settimana di Dragon Age Origins. Finalmente Stan è girato verso di noi. Come al solito cominciamo dalle parti più importanti. Se siete fan degli RPG e degli MMORPG, vi trovate nel posto giusto. Quindi vi invito a seguire il canale perché più siamo e meglio è. Questa settimana dobbiamo cimentarci nei combattimenti dell'arena, parlando con il maestro delle prove. Dunque, ci sono un po' di novità. Allora, ho cominciato come mi era stato richiesto nei commenti, nello specifico da Tasters, che mi ha detto Ah, ma perché non provi Kingdom Come Deliverance? L'ho provato. Merita, merita. Quindi porterò il gioco sul canale. Devo solo risolvere un paio di problemi con la registrazione perché Shadowplay sembra che abbia un po' di remore contro il gioco, nei confronti del gioco e decide di chiudermi la registrazione a buffo e di farle smettere a volte. Però vabbè, lo risolveremo anche quello. Magari userò OBS oppure lo faremo live. Detto questo, ho anche cominciato a streamare un pochino su Twitch, quindi il link ovviamente del Twitch lo trovate nell'infobox. Final Fantasy XIV, quindi se vi piacciono gli MMO, se giocate a Final Fantasy, ovviamente stiamo facendo, stiamo ancora livellando, per cui non si parla di endgame, di guide incredibili, ma per lo più di cazzeggio in chat. E chiaramente vi invito a venire a trovarci. Eventualmente poi però a fare un restream e a streamare su entrambe le piattaforme, quindi YouTube e Twitch insieme, ma vediamo. Comunque andiamo avanti, cerchiamo di cominciare questa settimana con il botto. L'elenco è definitivo. E vai, sono pronto a gustare il sangue, let's go. Ma decide lui, il gruppo? Gioco da solo, non capisco. Dato dritto per dritto, vabbè. Siamo visibili. Quindi 1 on 1, ok? Io mi ricordavo che si combatteva anche in gruppo. Del lucafone. Mi onorate con questo incontro, cerchiamo di essere onorevoli. Divertite, va. Onorevolissimo combattimento per Suwerin. E' andato al tappo, è buonissimo. Dio, povero Cristo. Povero Cristo, gli è andata veramente male. Assolutamente sì. Andiamo così alla cieca, dritti per dritti, via. Adesso c'avrò la cage in cooldown e mi tocca combattere. Ah, due, ok. Miagia e Lucafone, sticchè. Ah, e cominciano a fare. E che il fango sia buono quando lo farò mangiare, amici miei. Vediamo un po', eh. A parte che la pausa me l'ha... Ecco, non me l'ha messa, vabbè. Comunque, poco male. Facciamo... Allora, tipo, paralizziamo lei. Li distruggiamo. Praticamente mi fanno zero danni. Pure io non è che ne faccia danni. Non posso farci il danno. Aia, non so. Non so, vai. Oh! No, 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 no. Questi sono durati già un po' di buono. Madonna, ma Lucian era bruttissimo. Lo dovevo fare prima lui. Però lei c'aveva lo scudo. Lucian l'avrei sciolto. Ragazzi, è tosto il... Che in warrior è veramente pro. Veramente, veramente pro. Sì. Ah, la cieca, la cieca. Non ci interessa di sapere niente di nessuno. Andiamo dritti per dritti. Ben lungi. Vediamo se... Se lo è ben lungi. Due mani. Se ci farà pammering, ci butta per terra. E' un grande onore. L'onore è mio. E vabbè. Vittoria. Sta subendo tantissimo. Purtroppo, mi spiace, non è riuscito a muoversi, ragazzo. Too easy. Too easy. Hai durato assai, Capitano Roshan. Prima mi vorrei... Mi farebbe bene riposare. Così almeno mi fate uscire dal cooldown le spell, perché se no... È stata una bella scelta prendere le tue armi, devo dire. Niente male. Adesso, piano piano, magari riusciremo a tirare su... A tenere su anche lo scudo scintillante. Direi che dovrebbe arrivarci più o meno il mana fino a qui. E già lì dovremmo avere un buffer tale da poterlo riuscire a... A tenere per un po' di colpi senza che si spenga tutto. Assolutamente, assolutamente. Ok. Vediamo un po' lui qui c'è. Questo ride nella vostra storia 50 volte. Bastano. Quindi dobbiamo sceglierci un compagno pure noi? No. Quindi possiamo avere il compagno. Sono due due W'e'ui questi. Due W'e'ui. Scelgo Stan dei Cunari, vai. La bestia. Allora, questo lo locchiamo. Stan lo mandiamo addosso a questo. di rifiutare i flutti. Cerchiamo di eliminare questo. Prima che faccia del mare a Stan. Mazzà, ma questo era una pippa al sugo. Gli ha levato tutto quanto il cosmo. Non avevo neanche attivato il miasma in tutto questo. Adesso comincia a diventare un po' più tricky. Dai, questi qua almeno un po' di vita gliel'hanno dottato. Eh sì, ok. Scrippiamo un po' perchè dicono sempre la stessa cosa. Guardate la folla dietro. La vecchia buona vecchia folla in stile gioco di rally. Guardate i primi duemila in 2D che fanno gesti random. Piacere è tutto mio. Quindi siamo due vi tre? Ah no, siamo due vi tutti? Che cacchio però. Scusa, eh. Io c'ho... Devo attivare tutto qua, maledizione. Maledetti voi. Devi anche tirare... No, però io mira che la fa... La fa menare come si deve. Ah, quindi c'è un giallone e un... Allora, il bianchino è istamorto e va bene. Facciamo la OED di cosa. Magari diamo pure da lui. E facciamo l'alberello di Natale poi. E a lei le facciamo evocare. Ok, il braccio destro forse dobbiamo focussare sul braccio destro. Ma dannini sto tipo, eh. Come posso... Eh, lo posso sculloccare. E a lei le facciamo evocare sul braccio destro. E' un po' di roveso. Aia, questo non ci voleva. Ha resistito. Doppio Aia. Aia, Aia, Aia. Stan, vai qua e fai questo. Tuttalo con terra. E' andata pure questa, eh. Certo che il mancato è un pieno di mira attiva. Perfetto, mi spara lentamente. Colpi mancati pesano. Pesano forte. Le corna del mio esercito. Ok. Ma sono morti quelli, c'è il sangue, si alzano più, ma scusa. Doveva essere un torneo amichevole. E' stato un onore, dai, via. Andiamo con la cosa basic. Molto, molto bene. Abbiamo vinto. Abbiamo finito. Non ci ha aggiornato nessuna questa. Non so, delinquente del distretto della polvere. A me, mi sa che questi... Ecco, infatti, dicevo. Questi mi sa proprio che... Hanno cose da delinquenti, per l'appunto. Guarda questo. Questa di verbo. Ma lei sta crepando in tutto. Meno male che me ne sono accorto in tempo. Nice. Meno male che non ho fatto suocchezze. Volume di storia dei modellatori. Ah, ce l'aveva lui. Quindi adesso posso tornare al modellatorio e riportarlo. Restituisci il tomo al modellatore. Ho recuperato il tomo. Blah, blah, blah. Ok. Nice. Chi sono tutte queste persone? Ah, no, ma non sono morti. Ok. Guido. Roshan, Jetren. Non mi dice niente. Attenzione, qualcuno che parla. Tecnicamente non ho fatto nulla. Non abbiamo business. Se vuoi fare qualche coin. Non è che sto suggerendo nulla. Ma tu stai guardando il prize ora. Avrei dovuto darvi una bella lezione. Sì, beh, io prendo il mio naso clean fino a te sei lungo. Come va bene? Sono solo un businessman. Non mi ha deciso di fare questa buccia. Con il tomo. Allora. Dobbiamo uscire da... Qui. Come si esce? Da questa parte. Spiace per i maotti qua. Purtroppo è andata come è andata. Ah, ok. Quindi questa era una parte... Ok, ok. Andiamo a parlare con lui. C'è però una ricompensa per noi. Nulla. Eh, scusa, ma... Speranza in favore del principe. Il secondo incarico. Tornata a Belen. Non capisco perché. Vabbè. Mh, vediamo. Varic invece qua. Nulla. Però c'è questa parte aperta adesso. Incisioni sul muro. Nuovo codice sulle prove. Che vabbè. Non ci interessa. Qui c'è Miata che ha preso gli schiaffi. Quindi avviva. Miaggia, scusate. Codice aggiornato. Vabbè. Qua ci sono dei buchi nel muro. Uh. Di nuovo. Missione aggiornata? La tua crescente familiarità con la società di Orzamer ti ha rivelato un nascondiglio diplomatico accessibile ai rappresentanti del concilio. Allarmi. Ehi. Ma solo davanti a lei proprio le entriamo in camera. E non c'è nulla. Stranezza. Che minchia ce l'ha messo a fare. Ah, qua c'è Piotti. Ottimo spettacolo. Niente. Va bene. E di qua è chiuso. Ok. Quindi abbiamo visto di qua. Abbiamo visto di qua. Abbiamo provato a parlare con... Vedi, maestro riprova il favore Lord. Il primo incarico. Ah, perché il secondo incarico... E questo qua. Dobbiamo andare da Belen... Da Belene. E a fare il resto, insomma. Usiamo ala che ala decolla. Va bello veloce. In alternativa... Sembra che mi facciano eccessivo danno. Almeno a me. Magari agli altri un po' di più, però. Quindi dobbiamo andare al distretto di là. Potrei droppare il miasma a favore dello scudo scintillante. Così. Così mi sembra. Insomma, c'ho un po' di mana. Magari troviamo qualcosa che me ne dà un po' di più. Certo, lo scudo che me ne dava... Mi pare 50 o 25 non era malaccio. All'inizio. Adesso è un po' meno potente, devo dire. Però questo poi lo valutiamo. Solo che il DPS con le due armi è... Tanta roba. Ah, cavolo. Era il Palazzo Reale. Eh sì, qua era la Casa Arromont. Andiamo al Palazzo Reale. Devo capire quella roba... Questa qui. La tua crescente familiarità alla società ha rivelato un nascondimento diplomatico accessibile a rappresentarti del concilio. Ok. Però poi... Però... Guardie reali varie. Dobbiamo andare di qua. Io questa cosa... Che è tipica degli RPG un po' vecchi. Che puoi vedere le... Diciamo, vedi la struttura in questo modo qua. Quando zoom indietro l'ho sempre adorato. È una fesseria, è una cosa semplice. Però non so perché. Mi è sempre piaciuto un sacco. C'è proprio quel layer di strategia in più. Allora, eccolo qua. Belene. Ho visto, beleno. Anche quello, sì. Ho fatto ciò che avevate chiesto. Avete... Le mie truppe. Ah, ci vuole fare andare a prendere Branca. È un fabbro... Che era un fabbro, un'inventrice, no? Ce l'aveva detto... L'avevamo letto anche nei... Mi cotesi. Mi cotesi. E' l'unico paragono in quattro generazioni. E' l'unico paragono in quattro generazioni. Un paragono è come un ancestro nato in questo tempo. Se l'avete ritorno, il suo voto avvicinò l'interno assemblee. Qualcuno con il suo supporto potrebbe prendere il trono non challenge. Eh, beh... Se ciò mi assicurerà delle truppe. Però cosa vi fa pensare che sia ancora vita, in effetti? Ha un'interno casa con lei, dedicata a sua protezione. Con il numero di ruini ancora intacti, potrebbero durare un po' molto tempo. E Heromod è anche guardata. È troppo rischio di assumere che sia morta solo per averlo prendere credito per trovare. Beh, la troverò per voi. E noi bothi andiamo in storia come salvatori di Paragon. So far, my men have traced Bronca to Keridan's Cross. An ancient crossroad lost to the Darkspawn four centuries ago. Her trail ends there. Perhaps with your warden's expertise, you can find what I meant, or not. Partirò subito. Ok, ok, nice. Ah, eccolo, il monumento. Ok, quello dove dovevamo andare. Perfetto. Dove? Oh, male. Vediamo un po', eh. Andiamo a deco... Io questa cosa qua non l'ho mai capita. Ma che fa sta roba? Boh. Vabbè, andiamo da qua. Ok. Dobbiamo andare verso le vie profonde. Cerca il campione Branca. Dal monumento di gare ti raggiungi Ty Gortan, dove si dice sia passata Branca. Eh, dov'è. Cos'è? L'erborista al palazzo ti ha fornito una ricetta per un antidoto e anche lì dobbiamo trovare le parti, eccetera. Non poi queste missioni andranno fatte. Alcune le possiamo pure saltare, perché è fuffa. Alcune cose le voglio. In realtà, diciamo, il core della nostra build ce l'abbiamo, che è l'armatura che ci rigenera il... il mana e questa spada qua. Poi il resto è... è roba aggiuntiva. Oh no. No, 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 no. Devo andare di qua. Ah, tra l'altro ho trovato un hack per lui, vè? 12 silveritos. Andiamo, eh. Oh, Granger. E' vecchi boccati fa. Eh, che aspetto ha questo gusto di grigio? Stato e muscolare, un fai giusto, ma con un forte giù e una bella nusa surrounded by a great glowing nimbus. Se è una uova, potrebbe essere più piccola, ma i miei occhi brilleranno con la luce di purità e il suo grande bosom si rigenerà magnificamente. Che pueta, Ogren, eh? Ah, sono io il custode che stai cercando. Idiota. Scusi tu, Ogren. Maledetto. E mo' cominciamo. E... Ma è così che cerchi di convincere qualcuno ad aiutarti? Chi potrebbe mai rifiutare l'offerta di Ogren a venire con noi. Vieni adunque. Puoi venire se possiedi buone informazioni, ovviamente. che vedete che Branca che chiede per la un'avile di Caudo. Il segret per crema per crema di crema di crema che era scurito anni fa. Il smith Carradon crema e in con questo Orzammar aveva cento anni di while it was protected by the golems forged on the anvil as far as anyone knows the anvil was built in the old orton tag bronca plan to start looking there if she could ever find it all she knew was that it was past heredin's cross no one seen that tag for a 500 years okay i'm convinced muoviamoci è uno dei dei o meglio senza uno dei è probabilmente il mio compagnon preferito ok mi dispiace ma stan devi step down are per fare entrare il nostro ogrenno maestro ogren c'ha tutte le sue cosine queste qui le mettiamo qui tanto non lo terremo per sempre ogren ma l'unica cosa che volevo vedere era l'equipaggiamento vestito con la sella ovviamente non è che abbiamo niente di meglio da dargli invece questa ce l'abbiamo così almeno qualcosina di decente c'è bene possiamo andare signori io vi supero arrivederci e andiamo verso il monumento di caridin ben bene